Stiamo usando la partita di Bologna di Napoli a livello di motivazione e di stimolo per la prossima partita, per la partita di domani. Vogliamo cominciare a mettere in campo questa azione consome alle nostre possibilità, consome alla nostra modesta in campo, alla nostra mentalità, ai nostri atteggiamenti. Cerco di mettere in campo la squadra con la caratteristica migliore per creare difficoltà agli avversari. Se cambierò qualcosa di mettere in campo è perché credo che sono convinto che in una grande posizione si possa fare meglio. Ho grande fiducia per questa squadra. Ho grande fiducia nello spirito di questa squadra, negli atteggiamenti di questa squadra e ho grande fiducia di rivederli subito da domani. non mi è piaciuto come abbiamo perso il domenica scorsa. Il giocatore sta bene, ha dei test fisici e medici migliori dei nostri giocatori in questo momento. Se ci fosse bisogno di giocatore umano il giocatore sarà potuto giocare. È un giocatore che conosco, è un giocatore di danno di attività e credo che sarà un buon messo per la squadra. Ma va in partito. Cioè non mi va. È un giocatore di rispondere.